Due talenti internazionali in sala maffeiana per il concerto ieri dei virtuosi italiani. Il vento della musica soffia da est. In sala maffeiana per il concerto domenicale dei virtuosi italiani, la Cina ha incontrato la Moldavia nell'armonia di un programma intitolato Poeti Musica. Ospiti della formazione scaligera diretta dal maestro Alberto Martini, la pianista cinese Jin Ju e la violinista Alexandra Konunova, una sorprendente scoperta per il pubblico veronese. Un repertorio tutto cameristico, quello proposto dai virtuosi, con il quintetto postumo La Trota di Schubert, godibile e spensierato, è il meno noto concerto in re maggiore Opera XXI di Ernst Chausson, eseguito con accuratezza e virtuosismo dalla giovane musicista Moldava, largamente applaudita dal pubblico. Prima di riprendere con la stagione concertistica il 20 dicembre, il calendario dei virtuosi italiani prevede una serata speciale lunedì 30 novembre al Teatro Filarmonico, diretta dal violinista Pinchas Zuckerman con la violoncellista Amanda Forsyth.